Mettere in sicurezza il ponte Sente Longo e riaprirlo al transito veicolare per i collegamenti viari tra la provincia di Iserni e l'Alto Vastese, pur con le dovute limitazioni sulla portata dei mezzi. A quattro anni e mezzo dalla sua chiusura si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Ci sarebbe infatti il progetto esecutivo delle opere da parte di ANAS, prima di tutto per la parziale riapertura del tratto e nella seconda fase per la sistemazione definitiva dei piloni 2 e 7 che hanno subito quella rotazione che ne ha determinato il divieto d'accesso in un giorno di metà settembre del 2018. Un provvedimento che ha di colpo spezzati i sogni e i collegamenti giornalieri tra le sponde interne di Molise e Abruzzo, tra Belmonte da una parte e Castiglione Messer Marino dall'altra. Una interruzione che soprattutto per Agnone ne ha accelerato la decadenza sociale, economica e turistica. Il viadotto ha una lunghezza di circa 1,2 km, alto 185 metri e 200 metri di campate. Una struttura in calcestruzzo e acciaio di alto valore ingegneristico terminata nel lontano 1977. Sono stati molti dibattiti per ricreare le possibili condizioni per intervenire sul viadotto. La politica in ambito locale e nazionale ha tentato una sintesi che più volte però si è scontrata con il reperimento delle risorse finanziarie e la volontà di mettere mano ad un'opera imponente per un piccolo territorio.